E il Signore ci ha insegnato a concludere la grande preghiera del Padre nostro, con quella frase che è un vero esorcismo, liberaci dal male, è una cattiva traduzione, la vera traduzione è liberaci dal maligno, come spiega il nuovo Catechismo, che specifica ancora di più, liberaci dal maligno, ossia liberaci dalla persona di Satana. E ogni volta che noi diciamo il Padre nostro, penso che tutti voi avrete occasione più volte al giorno di recitare il Padre nostro, vi raccomandate che il Signore ci liberi da Satana. L'importante è parlarne bene, parlarne come ne parla la Bibbia. E questa sera l'argomento è Cristo contro Satana, ossia come si è comportato Gesù nei riguardi del demonio. Tutto quanto intendiamo dire ha per fondamento ciò che Gesù ha fatto, ciò che ha insegnato, i poteri che ha conferito ai Suoi discepoli. Sono questi i caposaldi fondamentali per comprendere l'opera della redenzione, che diversamente resterebbe un enigma. Non capiremmo niente della redenzione. Non capiremmo niente della redenzione, se non credessimo all'opera di Satana e non aprissimo gli occhi all'opera di Satana, che Gesù è venuto a contrastare. I molti riferimenti che qui riportiamo ci pare che siano ben introdotti da tre espressioni, che direi quasi programmatiche. Prima espressione, San Giovanni, prima lettera, 3, 8. Per questo scopo il Figlio di Dio è venuto, per distruggere le opere del diavolo. Chi non crede nel demonio non capisce niente dei motivi per cui Gesù è venuto nel mondo. Non li capisce, non sa che cosa è venuto a fare Gesù a questo mondo, non lo sa. Non lo sa. Parole molto precise, dalle quali non si può prescindere per capire l'azione del Maestro Divino, l'azione di Cristo. Per questo scopo il Figlio di Dio è venuto, per distruggere le opere del diavolo. Seconda frase. Quando Pietro vuole riassumere l'azione di Gesù in quel portantissimo incontro con Cornelio, il primo pagano che si converte al cristianesimo. Tutti i primi cristiani erano ebrei, gli apostoli, la Madonna, Gesù stesso. Come uomo era ebreo, era ebreo circonciso l'ottavo giorno, presentato al tempio al quarantesimo giorno, secondo la legge di Mosè. Tutti gli apostoli, tutti i primi cristiani erano ebrei. Il primo pagano convertito è Cornelio. E c'è una grande meraviglia da parte quando poi Pietro torna a Gerusalemme, che lo accusano. Ma come? Tu sei andato a mangiare a casa di un pagano. E allora San Pietro spiega come sono andate le cose. E allora questi ebrei, questa prima comunità cristiana di Gerusalemme, composta esclusivamente da ebrei, dice con meraviglia. Allora il messaggio di Gesù è rivolto anche ai pagani, è rivolto veramente a tutte le genti. Gesù ha detto chiaro, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però quando Pietro, ecco la seconda frase, vuole riassumere l'azione di Gesù, davanti a Cornelio e ai suoi familiari e ai suoi amici, le sintetizza con queste passioni. Gesù passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. L'umanità era sotto il potere del maligno e Gesù ci salva dal potere del maligno. Ci salva dal potere del maligno. Terza frase, anche questa programmatica direi, Paolo, quando vuole intende esprimere in profondità la lotta che il cristiano deve sostenere per essere fedele a Dio, afferma, vestite l'intera armatura di Dio per contrastare le macchinazioni ingegnose del diavolo. Infatti la nostra lotta non è contro una natura umana mortale, ma è contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti maligni delle regioni celesti. Guardate con quanta chiarezza Paolo si esprime. La nostra lotta è contro Satana, è contro le tentazioni del demonio. Ecco perché il Vangelo ci spinge ed è per questo che parliamo del demonio e ne parliamo e non ne parliamo mai abbastanza se ne parliamo bene, non per averne paura, ma per essere vigilanti, vigilate e pregate per non cadere in tentazione, per essere vigilanti e per pregare continuamente contro l'azione del demonio che tenta ognuno di noi, tutti ci tenta, da quando abbiamo l'uso di ragioni in poi, tutti ci tenta, fino al momento della morte. Alla luce di questi tre passi, Gesù che è venuto nel mondo per distruggere le opere di Satana, Gesù che è passato nel mondo saldando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, per sottrarsi dal potere del diavolo. E le parole di Paolo che la nostra lotta non è contro forze umane, ma è contro le macconiazioni di Satana, è contro il demonio, il nostro nemico numero uno, come lo chiama Paolo VI nel famoso discorso del 15 novembre del 71, del 72, il nostro nemico, il nemico numero uno, è Satana, è Satana. Sono i demoni i nostri rivali principali. Alla luce di questi passi, allora comprendiamo la grande importanza che i Vangeli danno allo scontro diretto tra Cristo e Satana, di cui sottolineano la totale sconfitta. ne parlano diffusamente, completamente, già all'inizio della vita pubblica di Gesù, subito dopo la solenne proclamazione del Padre nel Giordano, questo è il mio figlio prediletto, prende le mosse dallo scontro delle tentazioni, brevi ma incisive le parole di Marco «Egli rimase nel deserto quaranta giorni tentato da Satana». Ecco come inizia Gesù la sua vita pubblica, il suo ministero pubblico, anche se Matteo e Luca si fermano in particolare su tre tipi diversi di tentazioni di Satana. «Rimase nel deserto quaranta giorni tentato da Satana». «E' il contenuto che sottolinea prevede anche le nostre tentazioni, si tratta in sostanza di scegliere tra i desideri della carne, cibo, successo, potere». Ecco le tre tentazioni del demonio contro Cristo «E' la volontà dello spirito occorre scegliere tra le promesse di Satana fin da Adamo ed Eva sarete simili a Dio, non è vero che morirete, sarete simili a Dio». «E' il falsario, è il falsario numero uno». «Scegliere tra le promesse di Satana e le promesse di Dio che ci ha creato per il paradiso e ci vuole in paradiso e se l'uomo pecca ci dice chiaramente «Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva». Dio ci ha creato tutti per il paradiso e chi va all'inferno è perché ci vuole andare di sua volontà andando contro tutte le mille occasioni che il Signore gli ha dato per convertirsi». «Il primo Adamo ha scelto le promesse di Satana, la caduta di Adamo ed Eva. Il secondo Adamo, Cristo, ha scelto l'ubbidienza a Dio anche se la fedeltà a tale obbedienza gli farà rinunciare ai regni della terra, ai trionfi, al benessere e lo porterà alla morte in croce. Gesù è venuto per regnare non sugli uomini su questa terra, per essere un potente in senso terreno. Il suo potere sulle anime vuole regnare nei cuori, vuole regnare dentro ciascuno di noi e fin da questo momento Satana è già sconfitto perché Satana vuole lui a sua volta regnare dentro di noi e trascinarci dove lui si trova. Sarà una continua vittoria contro di lui tutta la predicazione di Gesù. Tutta la predicazione di Gesù è volta a instaurare il regno di Dio e a distruggere il regno di Satana. A questo si accompagna con chiarezza la crescente rivelazione della divinità di Cristo sottolineando da quei segni straordinari che sono i suoi miracoli e tra questi segni acquisto un particolarissimo valore il dominio di Gesù sugli spiriti immondi. Il suo comando a Satana comanda i demoni e questi gli ubbidiscono con la grande stupore della gente che il demonio ubbidisce a Gesù proprio perché la sua opera è volta a distruggere le opere di Satana a liberarne l'umanità perciò gli evangelisti insistono su questi episodi distinguendoli nettamente dalle malattie guarigioni delle malattie gli evangelisti distinguono benissimo quando Gesù guarisce e quando Gesù libera dal demonio quando Gesù dà il potere di guarire e quando Gesù dà il potere di cacciare i demoni sono certi certi studiosi di Sacra Scrittura moderni che non capiscono questa distinzione e fanno un calderone ingannando il popolo e purtroppo ingannando tante volte vescovi e preti incomincio con Marco mi baso anche solo sul primo capitolo dell'evangelista Marco guardate nel primo capitolo ha tre spunti formidabili che riguardano la lotta tra Cristo e Satana incomincia così il suo vangelo perché Gesù è venuto per combattere e vincere Satana primo punto primo capitolo prendo tre punti dal primo capitolo versetti 23 27 vi era nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo il quale si mise a gridare dicendo che c'è tra noi e te Gesù Natareno sei venuto a rovinarci io so che tu sei il santo di Dio ma Gesù lo sgridò dicendogli taci e deci fuori da lui allora lo spirito impuro lo scosse violentemente poi mandò un grande grido e uscì da lui tutti furono presi da spavento tanto che si chiedevano che è mai questo una dottrina nuova data con autorità e comanda perfino agli spiriti impuri e questi gli ubbidiscono notate come la predicazione di Gesù è messa in relazione la sua predicazione e il suo potere di cacciare i demoni come sono messi in relazione questi due aspetti perché sono ugualmente prove della sua autorità la sua predicazione nuova e la sua autorità sui demoni secondo punto sempre nel primo capitolo di Marco versetti 32 34 venuto la sera quando il sole fu tramontato gli condussero ogni sorta di malati e di indemoniati tutta la città si era raccolta davanti alla porta egli guarì molti malati da varie malattie e scazzò molti demoni ma non permetteva che i demoni parlassero perché lo conoscevano bene Gesù non voleva la testimonianza dei demoni lui aveva la testimonianza del padre ci teneva la testimonianza del padre dimostrata dai suoi atti oltre che dalla sua predicazione dimostrata dai suoi miracoli se non credete alle mie parole credete ai miei fatti e porta così ad essere anche noi i suoi testimoni non vuole la testimonianza di satana che sa benissimo che è Gesù vuole la nostra testimonianza vuole che noi diventiamo testimoni oltretutto la testimonianza dei demoni è dannosa perché poteva anticipare quello che Gesù voleva rivelare solo alla fine la sua divinità ancora sempre nel primo capitolo di Marco si conclude con questa frase e se ne andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoge e scacciando i demoni vedete come vengono unite la predicazione e la vittoria sui demoni sono inscindibili inscindibili Gesù predica e caccia i demoni e noi ubbidendo alle parole di Gesù vinciamo satana che ci tenta in tutti i modi noi lo vinciamo seguendo gli insegnamenti di Cristo come vediamo bene abbinata la predicazione e la vittoria su satana Marco ci riferisce altre parole del potere di Gesù sui demoni ne parlano spesso gli evangelisti ad esempio capitolo 3 11 12 gli spiriti immondi in poi quando lo vedevano gli cadevano ai piedi e gridavano dicendo tu sei il figlio di Dio ma lui insistentemente li rimproverava affinché non lo facessero conoscere ripeto non voleva la loro testimonianza aveva la testimonianza del padre e questo doveva abbassare a noi interessante l'incontro con la donna pagana di origine sirofenicia che dimostra una fede così grande da meritare la liberazione della figlia prima Gesù sembra quasi la prima volta che Gesù sembra quasi sgarbato con una donna mentre sempre gentile con le donne non si dà il pane destinato ai figli non lo si dà ai cagnolini e questa donna insiste ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei figli e allora subito Gesù la premia donna è grande la tua fede tua figlia è liberata è importante questo episodio anche perché è un caso di liberazione a distanza senza la presenza della persona direttamente interessata a parte alla fine parlerò poi dei due casi principali di liberazione che investono una particolare importanza per la ricchezza di particolari con cui sono riportati l'indemoniato di Gerasa e il ragazzo al piedi del Tabor sono episodi che troviamo anche in Matteo e Luca per cui meritano una particolare attenzione ma prima di passare ad altre considerazioni ossia sul valore che Gesù stesso dà a questi episodi e sul petere conferito prima ai dodici apostoli poi ai settantadue discepoli e infine a tutti coloro che credono in lui è la finale del Vangelo di Marco coloro che crederanno in me nel mio nome caceranno i demoni completiamo la rassegna con alcune narrazioni di Matteo e di Luca Giovanni preferisse non soffermarsi su singoli episodi ma preferisse a farci riflettere con osservazioni di carattere generale come la prima che abbiamo riferito Gesù è venuto al mondo per sconfiggere Satana lo scopo della sua venuta Matteo insiste su varie liberazioni collettive senza precisare il numero ad esempio 816 scusate 424 si sparse la fama di lui in tutta la Siria e così furono condotti a lui malati di ogni genere sofferenti di infermità e dolori vari indemoniati e paralitici ed egli li guarì 816 verso sera gli portarono molti ossessi ed egli scazzò gli spiriti con la sola parola e guarì tutti gli infermi non è da meno Luca oltre a riportare l'episodio della liberazione di quella donna tenuta curva da 18 anni per cause della presenza del demonio guardate il demonio cerca di nascondersi per cui qui si nasconde sotto la forma di una malattia sembra una deformazione alla spina dorsale nessuno pensa che sia causata dal demonio questa deformazione e invece Gesù sa che questo dipende dal demonio e allora la libera del demonio e questa donna torna sana torna sana come l'episodio Gesù ha guarito tanti muti ma c'è un sordomuto che era sordomuto non per malattia ma per la presenza del demonio e allora Gesù caccia il demonio e questo sordomuto incomincia di nuovo a parlare a sentire erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie anche quelli che erano tormentati da spiriti cattivi venivano guariti tutti cercavano di toccarlo perché da lui uscì una potenza che guariva tutti questo è Luca capitolo 6 18 19 e sempre Luca al capitolo 8 2 alcune donne erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità Maria di Magdala dalla quale erano usciti sette demoni e ne approfitto per dire che con chiarezza il Vangelo distingue tre persone ben distinte Maria Maddalena che non è mai stata una peccatrice era posseduta dal demonio doveva essere una ricca signora perché una di quelle che segue Gesù e l'aiuta con danaro insieme ad altre donne che seguivano gli apostoli e li aiutavano con danaro perché l'uso di allora era questo ognuno doveva vivere del proprio lavoro San Paolo dice chi non lavora non mangi se però uno si dava la predicazione della Bibbia lui e i suoi seguaci i suoi discepoli avevano diritto allora di essere mantenuti da elemosine per cui non avevano bisogno di persone che lavassero loro i panni o facessero loro da mangiare a questo provvedevano loro avevano solo bisogno di persone che dessero loro delle risorse economiche Maria Maddalena era una di queste donne e la troviamo ai piedi della croce e la troviamo che è la prima a cui Gesù appare quando risorge distinguerla bene da quell'altra donna innominata di cui sappiamo solo il mestiere faceva la prostituta non ha niente a che fare con Maria Maddalena anche se la gente crede che dire Maria Maddalena si riferisca a quella prostituta non ha niente a che fare un'altra donna come non ha non niente a che fare queste due donne con Maria di Betania la sorella di Marta e di Lazzaro è una terza persona è una terza persona che né era indemoniata né era una peccatrice era certamente una rettissima persona come Lazzaro e come Marta ecco e veniamo brevemente ai due episodi più completi più ricchi di particolare esaminiamo prima di tutto la liberazione dell'indemoniato di Gerasa mi baso soprattutto su Marco ci troviamo di fronte al caso più grave di possessione diabolica totale in cui l'indemoniato dimostra una forza sovrumana tale da rompere catene e ceppi non lo si poteva legare rompeva spezzava tutto e si dimostra così furioso da rendere pericoloso passare per quella contrada per cui la gente non poteva più passare per quella strada si noti che in altri casi di possessione non ci sono simili reazioni talvolta il male diabolico può essere identificato un male fisico il caso ad esempio che abbiamo fatto del sordomuto e della donna curva anche oggi noi vediamo che gli effetti della possessione diabolica sono quanto mai vari non esistono due casi uguali non esistono due casi uguali e nelle centinaia di casi che mi sono capitati ho visto queste differenze anche oggi gli effetti della possessione sono quanto mai vari è interessante il dialogo Gesù chiede al demonio come ti chiami è importante perché è importantissimo il dialogo che c'è tra l'esorcista e il demonio quando ci si trova davanti a una persona posseduta dal demonio ne abbiamo l'esempio da Gesù come ti chiami e la prima cosa che anch'io chiedo è che noi esorcisti chiediamo quando ci troviamo di fronte a una persona posseduta dal demonio è che dica il nome perché dire il nome fa molta fatica a dirlo fa molta fatica a parlarne è già una mezza scurrita e il demonio risponde legione perché siamo in molti quindi non dice il nome di un solo demonio siamo una legione anche questo caso ancora oggi si ripete ho avuto a che fare a volte con una donna posseduta dal demonio a cui ho chiesto il nome e che mi ha risposto legioni 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 un caso veramente gravissimo in cui questa donna ha vomitato tanti oggetti io ne ho conservati due chili due chili di oggetti vomitati da questa donna chiodi chiavi pupazzi le cose più varie eppure curiosi il fatto che Gesù accondiscenda la richiesta del demonio di andare nei porci e non fuori da quella regione o addirittura nell'abisso come ci riferisce Luca anche oggi accade talvolta che il demonio chieda all'esorcista la destinazione e accade che sia l'esorcista di imporla io impongo sempre ti do la scelta o l'inferno o ai piedi della croce e in genere mando tutti i demoni ai piedi della croce dove Cristo giudice unico Gesù Dio Padre ha dato a Cristo ogni potere di giudizio è lui il giudice supremo il giudice unico vai ai piedi della croce e sarà Gesù giudice unico a darti la destinazione l'episodio termina con un particolare apostolato che Gesù affida a quell'uomo quell'uomo vorreva restare con Gesù diventare un suo seguaccio Gesù gli dice no no questa volta non gli ordina di tacere anzi gli ordina di parlare vai a casa tua vai dai tuoi e di quelli che il Signore ha fatto per te e questo va e con grande efficacia predica nella sua paese nei paesi vicini predica quello che Gesù ha fatto per lui come lo ha liberato da Satana vedete che è un caso ricco di particolari il secondo caso ricco di dettagli ricchissimo di dettagli c'è offerta dalla guarigione di quel giovane che i nove apostoli non riuscirono a liberare mentre Gesù era assente sul tabor per l'episodio della trasfigurazione insieme a Pietro Giacomo e Giovanni per cui erano rimasti giù ai piedi del monte nove apostoli nel nome di Gesù cercano di liberare quel ragazzo mi baso soprattutto su Luca ma anche qui ci troviamo di fronte a un caso di possessione gravissima il demonio tormenta quel ragazzo rendendolo muto buttandole per terra dove si contorce con convulsioni che dattarli da farlo apparire epilettico tanto che l'evangelista stesso lo chiama anche epilettico il demonio cerca le volte di nascondersi sotto le forme di una malattia per non essere riconosciuta la sua presenza perché se la sua presenza viene riconosciuta gli viene dato lo sfratto ma c'è di peggio è un demonio distruttore quante volte il demonio dice a noi quando gli chiediamo quando te ne vai prima debbo uccidere Costei o Costui prima lo debbo uccidere e tante persone possedute dal demonio hanno tentato il suicidio e in genere non sono riusciti ad attuarlo un caso solo ha avuto il mio grande maestro padre candido di un indemoniato una ragazza indemoniata che si è suicidata per colpa della madre un unico caso se non mai il demonio ha tentato che queste persone si suicidassero ma anche a costo di compiere cose prodigiose mai sono riusciti questo era un demonio che voleva la morte di quel figlio unico ecco perché il papà dice a Gesù ha tentato di buttarlo nel fuoco di buttarlo nell'acqua tenta di ucciderlo vuole ucciderlo qui ci sono due importanti particolari da notare prima di tutto la domanda di Gesù al padre da quanto tempo gli accade nel vangelo non viene mai detta la causa delle possessioni e noi esorcisti tante volte ci affaniamo a cercare qual è la causa della possessione e non sempre arriviamo a capirla in questo episodio si precisa il tempo fino all'infanzia e ci sono delle persone che vengono possedute dal demonio fin dal seno materno prima ancora di nascere nascono già posseduti dal demonio e altri che vengono posseduti dal demonio da bambini piccoli e altre volte che io chiesto al demonio tu cosa puoi fare contro il battesimo di costui posso fare tutto perché sono arrivato prima io come è importante battezzare i bambini presto battezzarli al più presto mi sono trovato nel caso di una ragazza che in cui posseduta dal demonio e il demonio diceva è mia perché sono arrivato prima io era nata in una clinica in cui c'era una infermiera satanista che quando c'era il parto immediatamente consacrava quel bambino quella bambina satana per cui satana arrivava prima del battesimo naturalmente poi il battesimo liberava da satana altro che il battesimo libera rende figli di dio però satana se ne vantava sono arrivata prima io ecco quel padre risponde fin dall'infanzia per cui certamente questa questo ragazzo era vittima del demonio senza nessuna sua colpa personale e occorre notare ancora le condizioni che Gesù richiede per la liberazione al padre dice il padre gli domanda se è possibile libera il mio figlio e Gesù risponde come se è possibile tutto è possibile a chi crede gli chiede fede e quel padre risponde signore ho fede credo ma aumenta la mia fede è tanto importante negli esorcismi la fede dell'esorcista ma la fede anche della persona che viene esorcizzata la fede dei suoi parenti la fede dei suoi amici è la fede che dà la forza l'estro a dio di compiere i miracoli tanto che quando Gesù va a Nazareth potè compiere pochissimi miracoli a causa della mancanza della loro fede se non c'è la fede i miracoli non avvengono poi è interessantissimo il dialogo che avviene subito dopo tra Gesù e gli apostoli che chiedono a Gesù ma come mai noi non siamo riusciti a liberarlo eravamo in nove cacevamo il demonio nel tuo nome con la forza del tuo nome e perché non siamo riusciti a liberarlo e Gesù dà quella famosa risposta questo genere di demoni non può essere scacciato con nessun altro mezzo se non con la preghiera e col digiuno guardate quando si fanno gli esorcismi è importantissimo portare le persone a pregare intensamente e molte volte gli esorcismi durano anni e anni per arrivare alla liberazione proprio perché la persona si radichi nell'abitudine alla preghiera frequente all'uso frequente dei sacramenti lui i suoi familiari gli amici coloro che aiutano alla liberazione con nessun altro mezzo quindi vuol dire in quel caso lì gli esorcismi non avevano effetto era necessaria la preghiera e il digiuno che sempre deve accompagnare la liberazione delle persone possedute è un limite al potere dato agli apostoli è un limite in questo caso gli esorcismi non servono serve solo la preghiera e il digiuno o piuttosto è un preciso insegnamento da indicare come un coefficiente importante in qualsiasi caso in cui ci tratta ci si trova davanti a problemi di possessione demoniaca e tanto ci vuole tempo alle volte anni anni per arrivare alla liberazione ma quanti vantaggi molte volte ho chiesto delle persone che da anni erano possedute e avevano dei progressivi miglioramenti ma non ancora alla liberazione totale e ho chiesto voi preghereste così tanto vi accostereste così tanto ai sacramenti se non vi fosse capitato questo questo diciamo incidente di percorso chiamiamolo così della possessione demoniaca e tutti sempre mi hanno risposto oh no io non andavo mai a messa io non pregavo mai o quasi mai sono diventato così intenso di preghiera di frequenza ai sacramenti di vivere in grazia di Dio di lottare contro il peccato contro le tentazioni proprio perché mi trovo in questa situazione della possessione demoniaca a questo punto dopo aver visto con quanta forza e frequenza Gesù caccia via i demoni Giova fare qualche osservazione un primo rilievo Gesù riconosce il potere del maligno il demonio è un angelo decaduto ma resta con tutti i poteri angelici con la conoscenza con l'intelligenza con la capacità di iniziativa di angelo la sua natura angelica non è venuta meno dal fatto di essere diventato un demonio solo che la usa non più a favore di Dio in ubbidienza a Dio ma la usa contro Dio ma dei poteri grandissimi Sant'Agostino ci dice che se non fossimo difesi da Dio il demonio ci ucciderebbe tutti ci ucciderebbe tutti ha questo potere ha il potere e Gesù riconosce il potere del maligno può entrare in un uomo e allora anche può entrare avete presente quando nell'ultima cena Gesù dà un boccone a Satana e da quel momento Satana entrò in lui dal boccone a Giuda e da quel momento Satana entrò in lui basta non era più Giuda era diventato Satana che agiva per mezzo di questo uomo era satanizzato completamente poi ha il potere di ritornare con altri sette spiriti peggiori anche dopo essere riuscito Matteo 12 43 45 poi può compiere azioni tali da strabiliare il popolo come faceva Simon Mago e azioni ancora più grandi più straordinarie come ci vengono descritte nel libro dell'Apocalisse un potere tremendo un potere tremendo tale da vincere anche i buoni da vincere anche i santi lì lì per lì naturalmente provvisoriamente dispone di un potere particolare in certi tempi questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre ci sono dei momenti in cui il demonio ha più potere che in altri momenti soprattutto gli spiega questo potere negli ultimi tempi come risulta dagli discorsi escatologici e dal libro dell'Apocalisse in più il demonio si oppone ai piani di Dio nella parabola del seminatore è il seme che viene cade per terra vengono gli uccelli che lo beccano via è una delle due parabole che Gesù spiega direttamente agli apostoli e dice è il demonio che porta via il seme della parola di Dio poi nella parabola del buograno e della disania anche qui ma chi è stato a seminare la disania è stato il demonio a seminare l'erbaccia la disania in mezzo al buograno è il demonio ancora che cerca di trasformare i figli di Dio in figli suoi Gesù non vi ho scelto io voi dodici eppure uno di voi è un diavolo guardate tremendo Giovanni 6 70 ho scelto io voi dodici eppure uno di voi è un diavolo il potere del demonio chissà quanti tentativi ha fatto Gesù per convertire Giuda quissà quanti tentativi ma non c'è stato niente da fare meglio per quell'uomo che non fosse mai nato Anania come mai Satana ti ha riempito il cuore fino a cercare di ingannare lo Spirito Santo lo leggiamo nel libro degli atti ma Gesù già diceva Simone Simone Satana ha ottenuto il permesso di passarvi al vaglio come il grano e questo non vale solo per i dodici apostoli vale per ciascuno di noi Satana ha il permesso di passarci al vaglio come il grano ecco perché è il grande tentatore alla luce di questa realtà acquiste una particolarissima importanza il potere dimostrato da Gesù contro Satana è un potere che mette in crisi scrivi e farisei tanto che cercano di darsi una spiegazione e non sanno trovare altra che questa spiegazione vince Satana ha potere su Satana perché è d'accordo col principe dei demoni guardate è un'accusa formidabile perché Gesù è venuto apposta per distruggere le opere di Satana e viene accusato di lavorare di agire in accordo col capo dei demoni è l'accusa più forte contro Gesù è l'accusa più tremenda l'accusa più contraria a quella che è l'opera direttamente contraria a quella che è l'opera di Gesù che è venuto per distruggere il regno di Satana e allora Gesù sente il bisogno di rispondere in maniera molto precisa e risponde con tre argomenti primo argomento l'accusa questa ripetuta e strarripetuta primo argomento Gesù dice lui che è venuto a distruggere le opere di Satana è assurdo pensare che io agisca in accordo col capo dei demoni perché se io cazzo i demoni allora sarebbe Satana a cacciare i demoni un regno non può reggere non può reggere se si autodistrugge per cui il regno di Satana non potrebbe stare in piedi se fosse Satana a scacciare Satana e allora è assurda questa ipotesi che io agisca in accordo con Satana secondo argomento è ancora più forte se il primo ragionamento dimostra l'assurdità dell'accusa il secondo dà la vera spiegazione di ciò che sta accadendo per cui apre gli occhi agli ascoltatori sul vero significato di questa potenza che Gesù dispiega contro Satana se io invece dice Gesù scaccio i demoni in virtù dello spirito di Dio vuol dire che realmente è giunto a voi il regno di Dio ecco la vera spiegazione io sono più forte di Satana perché io distruggo il regno di Satana e stabilisco il regno di Dio ed è a questo a cui Gesù vuole portare i suoi ascoltatori di fronte a questi prodigi che lui compie contro il demonio la sua forza più forte della forza del demonio è per dimostrare che il regno dei Satana viene distrutto e viene invece stabilito il regno di Dio ora il principe di questo mondo è cacciato fuori ci dice Giovanni è svinto è uno sconfitto è uno sconfitto per cui quando alcuni visori sei gli dicono esci e parti da qui perché erode vuol farti uccidere Gesù risponde adate a dire a quella volpe io faccio gli spiriti maligni e compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno raggiungerò la mia meta ossia io devo compiere fino in fondo l'opera che il padre mi ha commissionato mi ha dato da compiere terzo argomento anche questo è una risposta che corona tutto il discorso per cui Gesù mostra chiaramente la sua assoluta superiorità e la sconfitta di Satana dice quando un uomo forte e bene armato fa la guardia alla sua casa tutti i suoi beni stanno al sicuro l'uomo forte che fa la guardia alla sua casa è Satana ma se arriva uno più forte di lui e lo vince gli strappa le armi nelle quale confidava e ne istribuisce il bottino allora lui resta sconfitto Luca 11 21 22 quindi è chiaro che l'uomo forte è Satana che si ritiene al sicuro ma quando arriva Gesù il demonio protesta attraverso gli indemoniati sei venuto a rovinarci sei venuto prima del tempo e Giovanni ci dice 16 11 il principe di questo mondo è già condannato è già condannato paolo paolo raccontando al re Agrippa la sua conversione ripete le parole che il signore gli aveva detto ti mando ai pagani per aprire loro gli occhi perché si convertano dalle tenebre alla luce dal potere di Satana a Dio Gesù è venuto perché noi passiamo dalla soggezione di Satana passiamo alla soggezione a Dio quanto è importante allora avere ben presente questa lotta continua che ognuno di noi ha contro Satana ogni giorno Satana ci tenta al male Satana vuole strapparci da Dio e vuole portarci con Lui il concilio Vaticano secondo ci ricorda che tale lotta degli spiriti maligni continuerà fino all'ultimo giorno abbiamo visto la frase di San Paolo la nostra lotta non è contro forze umane ma è contro gli spiriti maligni è contro Satana e contro i demoni e allora voi vedete che è necessario parlarne ma parlarne bene la prossima volta se mi resterà tempo la conclusione è parliamo pure del demonio ma parliamone secondo il Vangelo parliamone come ne parla Gesù combattiamole come l'ha combattuto Gesù per arrivare ad essere sempre vigilanti e in preghiera vigilate e pregate per non cadere in tentazione chi non crede nel demonio non vigila non vigila e i sacerdoti che non predicano sulla potenza del demonio e sulla lotta che ognuno che ognuno di noi deve sostenere contro Satana tradiscono il Vangelo perché il Vangelo si lascia con quelle parole andate in tutto il mondo predicati il Vangelo cazzate i demoni guarite i malati vigilate e pregate per non cadere in tentazione quindi il pensiero dell'esistenza della potenza dell'azione del demonio è importante conoscerla affinché siamo sempre vigilanti e affinché preghiamo perché la nostra sola vigilanza le nostre forze umane non bastano occorre la grazia di Dio per vincere Satana dal momento che lo scopo della venuta di Cristo è stato proprio questo è venuto per distruggere le opere di Satana di Satana di Satana Grazie a tutti.